17 operatori culturali incontrano l'assessore Arru, non online ma in presenza, nella sala grande dell'assessorato in Largo Infermeria San Pietro. Troppi, secondo la minoranza di sinistra del Consiglio Comunale, che sulla riunione di ieri, volta a sondare i bisogni del comparto performativo in città, si è espressa con un duro comunicato, sia per il presunto affollamento del meeting, contrario secondo i sette firmatari e le prescrizioni del DPCM, che per le sue finalità, definite non chiare. Sui due punti ribatte lo stesso assessore, si sta creando una polemica sul nulla, il contesto era sostenibilissimo, altrimenti non avrei partecipato, precisa Larru, che aggiunge, l'incontro era volto ad inquarare un settore in grande difficoltà, ma sul futuro, anche di Sassari Estate, sono stata chiara, non posso fare promesse. A esporsi sui dettagli del rendezvous, Cristian Luisi, consigliere di maggioranza e organizzatore del convegno, ieri abbiamo incontrato le associazioni che non beneficiano di contributi, ma ascolteremo tutti, così l'esponente di Cambiamo, che annuncia la volontà dell'amministrazione di pubblicare il bando per il cartellone estivo entro maggio e sostiene ancora Luisi di aumentare gli spazi per le rappresentazioni da 4 a 7. Intanto, sembrerebbe certa, la riproposizione della formula attuata quest'anno. Il comune offre i servizi, ma non paga gli spettacoli. Una spesa comunque molto alta, conclude Luisi.